Benvenuti cari follower, questo è il momento del ritorno del maltempo e dei forti temporali in Italia. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci cliccando il pulsante mi piace su questo video e iscrivendovi al canale. Grazie. Quindi, il modello europeo, nel suo ultimo aggiornamento, indica un'alta probabilità che l'Italia sarà esposta a temporali molto forti entro la metà di questo mese, maggio 2024. E questi temporali continueranno a colpire l'Italia almeno fino al 20 maggio, con quantità molto elevate. Di pioggia che si avvicina, o supera la barriera, dei 150 mm all'anno. Un periodo di tempo molto breve, che potrà provocare alluvioni, che secondo i dati preliminari a nostra disposizione, colpiranno fortemente il nord Italia e raggiungeranno anche le regioni centrali e mediterranee, anche l'estremo sud, con il rischio di caduta di grossi chicchi di grandine, che potrebbero causare ingenti danni materiali. Quindi è assolutamente necessaria prudenza, poiché siamo in... Seguite tutti gli ultimi aggiornamenti e maggiori dettagli su questi temporali molto forti. Ci proveremo per fornirteli in seguito, e quando il periodo si avvicina di più.